Abbiamo appena beccato una signora Wow beccatune! C'è la valla! C'è la valla! Wow bucone! Questo che è molto fragile Guarda che non era molto Ascoltiamo una canzone tranquilla Ah li facciamo vedere la stampante ragazzi Qui è dove stampa eh? Adesso io darò l'ok Bisogna prenderlo a un certo punto Notare Che anche oggi abbiamo un'indicazione per venire a Cusiano Cusiano Guarda non dico altro eh Sorriso Mike Fammi una peccina dolce Carlo non te lo faccio il sorriso oggi Un espressivo proprio Fammi quella proprio da voglioso Da quella voglioso puoi farmela però eh Questa la faccio attuale Che va ben buona Che va bene? Cosa sempre!